La via del restauro. Cultura e pratica della conservazione e valorizzazione del patrimonio. Con l'obiettivo di consolidare un ponte tra Torino, il Piemonte e la Cina, il Politecnico di Torino e il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale propongono tre racconti in materia di restauro. Storie che valorizzano e mettono a sistema le competenze di architetti, restauratori, artigiani, imprese, enti ed università. Una sinergia che genera valore per il territorio. Tre produzioni video originali che evidenziano occasioni di scambio e collaborazione tra Occidente e Oriente, a partire dalle testimonianze culturali di un unico territorio, visto alle diverse scale. Architettonica, paesaggistica, urbana. Il restauro architettonico. Le residenze reali sabaude nella World Heritage List. Sistemi complessi di architettura, opere d'arte e giardini storici. La valorizzazione territoriale e paesaggistica. I borghi storici e il loro recupero. L'arte contemporanea nel paesaggio storico. Un dialogo rinnovato con la natura. Archeologia industriale e rigenerazione urbana. Il recupero degli edifici industriali. Nuovi spazi restituiti alle comunità per usi contemporanei. I tre video saranno presentati in occasione dell'Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina a novembre 2022, raccontando le strategie territoriali e urbane, i progetti architettonici, gli interventi sulle opere d'arte, l'apporto culturale e di formazione che il Politecnico di Torino e il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale garantiscono nella continuità della loro missione. Grazie ai partner cinesi con cui sono in atto collaborazioni di ricerca e di didattica, si proporranno corsi e workshop congiunti, intesi come luoghi di confronto culturale e scambio di buone pratiche. Dal progetto di restauro agli interventi di conservazione sui singoli beni, ai piani di manutenzione programmata. La prospettiva è quella di sviluppare nuovi scambi con centri di ricerca, corsi congiunti Italia-Cina di alta formazione e formazione continua, training tour per professionisti del settore. La cultura e la pratica del restauro. Un ponte per unire l'Italia e la Cina attraverso la storia, il territorio e le opere. Grazie a tutti.